A breve arriverà uno dei remake meno attesi della storia del cinema, ovvero quello del Corvo. Ma c'è una domanda che in molti si fanno e che è legata al film. Come è rimasto effettivamente ucciso Brandon Lee durante le riprese? Il remake con protagonista Bill Skarsgård, uno dei tanti figli di Stellan Skarsgård, che abbiamo visto protagonista in It, che era proprio il pagliaccio assassino. Certo, le premesse non sono delle migliori in quanto il regista del film, Rupert Sanders, ha un passato non troppo di successi in quanto ha diretto Biancaneve e Il Cacciatore e Ghost in the Shell, da alcuni apprezzato, da altri odiato. Per adesso non sappiamo ancora cosa ci servirà questo film, se prenderà ispirazione a pieni mani dal cult con protagonista Brandon Lee, ma la cosa è certa, nessuno vuole vedere Bill Skarsgård nei panni del Corvo. Soprattutto perché siamo ancora attaccati all'immagine di Brandon Lee nei panni del protagonista del film, quindi è difficile staccarsi da lui, da buon Brandon, che purtroppo, come tutti sappiamo, è rimasto ucciso mentre girava il film. Ma come è rimasto ucciso Brandon Lee? Molti pensano che la scena in questione sia quella in cui il protagonista del film, Eric Draven, viene da un migliaio di colpi d'arma da fuoco e cade giù dal tavolo, per poi comunque risuscitare, perché sappiamo che il buon Eric è stato risuscitato da un corvo e quindi non può morire. Durante quella scena si racconta, e molti pensano, si racconti, che qualcuno abbia sparato apposta a Brandon Lee. In realtà non è vero, perché la scena nella quale il giovane rimase ucciso è quella dell'inizio del film, che ovviamente nella versione finale della pellicola non c'è. Lui arriva a casa con le buste della spesa ed il cattivo in questione, che aveva buttato giù la porta e stava per violentare la sua fidanzata, spara a Brandon Lee. In quel momento, nella pistola a salve, c'era un brandello di un proiettile rimasto incastrato. Nessuno ha controllato le armi di scena e per questo il colpo è effettivamente esploso, colpendo l'attore al tetto. Il giovane è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo è morto lì, mentre era sotto le cure dei medici. Inizialmente il regista si era avvicinato a Brandon, complimentandosi con lui per l'incredibile parte, quando capì però che effettivamente il sangue che aveva addosso non era quello di scena, ma che in realtà era caldo e che è stato veramente ferito gravemente, andò nel panico e chiamò immediatamente i soccorsi che purtroppo non riuscirono a salvare l'attore. È una delle domande che in molti cercavano la risposta collegata appunto alla morte di Brandon Lee. Vedremo come andrà il remake col protagonista, Blin Skarsgård, ma difficilmente l'immaginario collettivo riuscirà ad individuare nel buon Skarsgård un degno erete di Brandon Lee. Ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, o vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di mettere mi piace e di seguirci sui nostri canali social che trovate qui in descrizione. Io per adesso vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti, da Valerio Perrone e da Ciaccazione. Ciao.